Radio Arzago, gli eventi. Radio Arzago, gli eventi. Ben trovati amici di Radio Arzago, un saluto da Viviana Vinci. L'11 maggio alle ore 21 andrà a scena la prima teatrale Tre Padri per una Figlia, presentata dal gruppo teatrale di Arzago, i ragazzi di Gigi. Un'intensa programmazione di date durante il weekend di maggio per offrire a tutti l'opportunità di gustarsi un'interessante serata di intrattenimento teatrale. I ragazzi di Gigi vi aspettano al Salone dell'Oratorio San Lorenzo di Arzago d'Alba. Ecco le date di maggio. Venerdì e sabato 11 maggio, venerdì 18 maggio, venerdì sabato e domenica 25, 26 e 27 maggio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare Silvia al numero 334-3278-428. Sabato 5 maggio, prima edizione del Paese dei Balocchi, mercatino del riuso ad Arzago con truccabimbi, giochi spiritosi, anche con torte in faccia e altri giochi. Organizzato dal Comitato Genitori Istituto Compensivi di Casirate, in piazza San Lorenzo ad Arzago. Ulteriori info su www.comitatogenitoriiccasirate.it Domenica 6 maggio, l'Associazione Amici degli Animali Hollus di Treviglio, con Holden Club, e la partecipazione di Capiamoci, educatori cinofili, il gruppo volontari del canile di Calvenzano, i giardini di Zoo e di Volontari Abio, organizza una giornata in campagna, con divertenti giochi per voi e i vostri cani. Nel pomeriggio Battesimo della Stella, per i giovani che si avvicinano la prima volta ai cavalli, verso sera un aperitivo con musica live. Fai vivere al tuo canio e alla tua famiglia una domenica divertente, diversa, immersa nella natura. Ingresso gratuito, con offerta libera. Il programma completo lo trovate nella locandina sulla nostra pagina facebook.com slash radioarzago.